Siamo in diretta sia su Nello Faviccio che su Radio Paco Grisci perché noi vi volevamo stupirvi con effetti speciali Noi sulle effetti speciali, viste come stai? Mi vuoi fare? Cioè tu mi attaccai, mi metti a caccai No, però stamattina Hai sto metà? Hai sto, vedi? Volevamo stupirvi con effetti speciali Da Nello Faviccio a Radio Paco Grisci Basta che io lo sposto sull'aga Seguiteli, seguiteli Seguitelo a Paco Entrato Lina, lina Polizia Basta che è sposto sulla capa Praticamente è sposto la capa, guarda, scompaglio d'anello Però non lo so, a camera piace più assai, c'è questo colore E va bene, perché siamo in alto design No, perché il telefono è proprio un telefono È un altro design E' un altro design Perché là è la lacrima napoletana, che è Radio Paco Grisci Aspetta, secondo me è alluminosità pura No, no, è a mare È proprio, è proprio praticamente Stai facendo un macello, non avevi paura Allora, là è la lacrima napoletana A qui invece è alto design Sprizziamo energia da tutti i pori Comunque Tragetto Non lo so, ma su Facebook mi pare che... Ilenia Ilenia è tornata... No, no, stanno tornando piano piano, piano piano I fedelissimi, i fedelissimi Ciao Ilenia Ma tanto a noi gli faccio sempre Ragazzi Noi tutto quello che facciamo a livello di social... Questo è il messaggio di oggi Certo Il messaggio di oggi è questo qua A me non mi hanno proprio soddisfazione Ma non è bello... Vai oltre, vai oltre Perché noi lasciamo i post I messaggi Il messaggio di oggi è uno Venate a scendere in questo social network Voi state prendendo la capa Verete quanto è bello il rapporto umano Il rapporto umano Certo Dovete tornare ai rapporti umani C'è bisogno di tatto Di emozioni Di gioia Francesca Sì, la giornalista Buonasera Mi consenta Ciao Marco Dovete uscire dai social network C'è bisogno dei rapporti umani Di tatto Certo Perché la vita reale è questa qua In diretta da Miami Infatti Oh, è bellissimo C'è comunque Mi sono passato Bellissimo E tu cagni Dovete uscire dai Dalla vita irreale Sono i vostri No, Maria Tu sei sembra numero uno Quindi Tu vuoi quello che vuoi La signora che è entrata prima Francesca È la giornalista del mattino Se non erro Ah, sì Infatti Sì, sì, sì Hanno fatto Vorrei una così alta tesa Accetto subito Saveri Aspetta Però, però, però Perché sicuramente Aspetta Dite dove tu va a me Maveri Che succede Ragazzi Facciamo cose psichedeliche Abbiamo due fresconi Della Campania Grazie E forse Secondo me Secondo me Secondo me Sai qual è un problema Un problema Perché Perché ci stanno Trasmettendo Per lui Secondo me Si colleghi In da niente Non ci arriva Non ci arriva Perché stiamo facendo Due dirette separate Sempre numero uno Vago Grisci Diretta della diretta Diretta della diretta È tutta una fatta Psiche Psiche Bacione Almeno Allora Qua Non lo so Forse a me Stanno ancora E posso dire Malamente Un bacione Ciao No Dice Nella faviccia Non può partecipare Fa vedere un attimo Una cosa Aspetta Vediamo adesso Che succede Aspetta Ma forse Perché No Certo Perché Perché È normale Oh Salvala La diretta La di prima Questa qua Tu L'hai cancellata Eh Vabbè La salvai Aspetta Ecco qua Musica Eh Musica Però Praticamente Tutto Non fa Psicadelica No Ma Non si sente In terapia Come è Ma Ma Tata 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 Però Udi Stanno Cominciando A Ma Ma Stanno Cominciando Avvenito Ragazzi Vi vogliamo Aspetta Volevamo Stupirvi con effetti speciali Togliamo l'audio Ecco qua Ragazzi Ci siamo stoppiati Per voi Ciao Angelo Riffice Camillo Camilla Mattia Mattia Carmi Ecco qua Abbiamo fatto una roba di alto design Metti qua Metti l'alto design qua vicino Ci siamo stoppiati ragazzi Siamo diventati Two is magic One Ilenia Campora Benvenuta Campora Benvenuta Comunque ragazzi Il messaggio è sempre uno Ragazzi Dovete uscire da questo virtualismo Dei tempi moderni Vi vogliamo un poco più I rapporti umani sono questi Perché i signori miei si ci conosciamo Facciamo tutto E' tutto bello Ma se non c'è il contatto Il tatto Si perde tutto Tutto Si perde tutto Giulia Ciao Giulia Pasquale Canta una canzone per me Manca chitarra ragazzi Che ti ho cantato aspetta però No aspetta E ritorno da te Senza niente da dire Senza tante parole Prima ma pure in tuo bar Per esempio Abbiamo cantato E' normale ragazzi Manca soltanto la chitarra Abbiamo cantato E basta C'è il suo suono C'è il mio Ma allora Diciamo Ma sì E' normale Adesso Risultiamo Ietti In diretta Sono passati Un attimo E se ne sono andati Perché noi Studiamo sempre Con effetti speciali Ragazzi Abbiamo Il regista L'amico Geniale Ragazzi Qua I geniali Sono due I due Genni 3-3 Napoli a Coppa Antonio Ciccone grandissimo Antonio grandissimo Antonio Ciccone che piacere sta lavorando con Antonio Ciccone Valentina buonasera a tutti volevamo stupirvi con effetti speciali spero che ci siamo riusciti, ci siamo sdoppiati che poi lo siamo in quattro ma siamo quanti in un tu in Radio Pago Ciccone tu nel Pagli che ho pensato nella Pagli che ho pensato a Rania sotto Ciccone ciao cari Antonio maestro Ciccone che piacere veramente molto lieto qualche volta facciamo un direttone un mega direttone su Instagram si fanno anche a 4 a 5 Marriale Roberto si fanno anche a 4 a 5 le dirette comunque ragazzi ricordate non mi stancherò mai di ripetervelo ve lo dico sempre nel virtualismo dei tempi moderni dovete uscire fuori i rapporti umani sono altri sono altri voi siete grandi grazie 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 ma tu sei sempre troppo accendito sei sempre gloriosa Giseppina nazionale gloriosa nazionale anche a 10 persone ma noi ma ragazzi ti ricordi la diretta che facevamo nel condominio tra 7 e 1 bellissima quella là era bella era bella era tutto capodanno eh ragazzi ma prima avevamo tempo da perdere adesso il tempo è si fatica su io direi una cosa Nello allora ragazzi noi vi salutiamo perché con tutto il rispetto vostro ma non è per qualcosa ma diciamo fa 4 piacere in amicizia certo ma le avevamo visto social network un bacio a tutti un bacione va te la coprisci Nello paviccio eh Nello paviccio Nello paviccio ciao è stato un piacere di pazza